Per il padiglione le cose sono andate avanti, ci sono già i 17 milioni che erano stati preventivati, che sono finalmente fruibili. Stiamo provvedendo in questo momento al nuovo progetto che prevede sia a lunga durata una destinazione del padiglione per la ricerca scientifica in materia di patologie e di soprattutto epidemiologia. Nell'immediato abbiamo destinato il padiglione al pronto soccorso, sarà uno dei pronti soccorsi più importanti della Sicilia, inizieranno subito i lavori, i 17 milioni sono già pronti. Certo c'è stato un ritardo nella costruzione ma ciò è dipeso anche da tutta una serie di vicissitudini che non starò qui a raccontare, che sono dipese anche dalla caduta del governo regionale e della caduta del governo nazionale per cui questi FSC e tutta una serie di fondi che erano stati destinati sono venuti meno. Come tempistica il padiglione si è già prevista una data ufficiale di consegna? Il problema è le somme, le somme sono state già riprogrammate, sono già a disposizione. Adesso deve essere il nostro bravissimo direttore dell'ASP Vincenzo Sfera comunque a rivedere il progetto perché il progetto era stato iniziato per una determinata destinazione vincolata al fatto epidemiologico e adesso invece deve essere destinato per il momento al pronto soccorso.